Pino Aprile è tornato a Foggia per presentare il suo libro L'Italia è finita con il provocatorio sottotitolo e forse meglio così. L'incontro si è svolto nella sala fondi della biblioteca provinciale La Magna Capitana a Foggia ed è stato promosso dalla neonata associazione culturale I Fiori Blu che si avvale del sostegno della cooperativa sociale Sanità Più e il gruppo Universo Saluti accanto alla collaborazione della libreria Ubic. L'Italia è finita è un libro che irrompe nel dibattito politico e tratteggia scrupolosamente gli scenari di un futuro che non è mai stato così prossimo. Tra un'avanciata di anni l'Italia e forse l'Europa non esisteranno più, almeno come lo conosciamo ora. Si spezzeranno per il falimento della loro economia, lo dicono autorevoli studi e indagini ben noti agli addetti ai lavori. Nel libro Pino Aprile riprende la tesi a lui più cara, l'unità nazionale nel bel paese non c'è mai stata. O ancora, per essere più precisi, l'Italia è stata si unificata ma non è mai stata realmente unita. Piuttosto il risultato di un'operazione scelerata di saccheggio e conquista, sostiene Aprile, che ha distrutto un sud proiettato nel futuro industriale e attuato un vero e proprio genocidio per convincere i riluttanti meridionali.